What's up, crazy boy, to you? Francesco, ritorni a essere quello di una volta, con un po' d'aiuto, no? Siamo tutti nella partitura. Ma sta piangendo. Prima! E poi ti metti a piangere. Cosa stai a dire? Il maturto, domani sei il maturto. Vai, ma... Dai, ma... Ma chi è quello? Che cosa? Vai! Di agrone. Dov'è che si sospetti già da quello? No, non si può usare, ma ti la prendi? Non sentire, alza, fa venire. Nooo, no, no! Grazie, grazie. Lo ho visto. Francesco, lo devi aprirlo. Te la devi prendere. E' pieno di roba. E' pieno di roba. Francesco, noi non sapevamo cosa fosse. Dai, ma cos'è? E' pieno di roba. Dai, apri, su. Dai, continua. Come fai? No, è lui che devi mostrare. Quella è il porta monete. Nooo! Quella ci mette il tesserino per entrare nel centro. Pialla qua vicino mentre pranzi che... Fai impressione. Ah, quel tesserino dentro poi lo passi sul rilevatore. Fai rilevatore. Fai rilevatore. Fai impressione. Viagrone. Domila pastic. Il misuratore di lunghezza. Cos'è questo? Da notare, guarda. Pistolino, titra, bazooka, cannone bomba missile. Questa è andata. Fai un misuratore, dai, va. No, ma non c'è la cara al mattino, però te l'ho preso uguale. Grazie. Questo le legge lui. Non c'ho gli occhiali. Non c'ho gli occhiali. Cos'è? Bisognerebbe aprirlo. Questa è secondo le humor. Alza per il freddo. Arrivò il merro. Questo non c'è anche l'apre. 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 Diciamo sempre un coraggio. Avete messo l'imbarazzo Francesco. Davvero, eh. Oh, su Youtube sta roba va a finire, eh. Diciamo sempre un coraggio. Scusi. Ma che schifo. Dai, 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 dai. Dai, su. Sto avicino all'inverno. Troppo bello. Tanto dell'inverno. No, questo non lo avevo visto, no, questo è il preservativo. Sto saputo il cervello. Non usate un cervello. Questo saputo il cervello. per quanto gioco non ci hai letto quello che c'è scritto